Chang 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 Signora mi ha chiamato? Signora c'è un uomo per lei Chi? Un uomo Sei stato chiarissimo Signora sono arrivati uomini Signora quando eri entrata? Non aveva la borsa Signora Doris, è arrivato uomo elettricista Signora come stai? Sono preoccupato, le porto qualcosa? Tè, acqua o medicinale? Chiamo un dottore? Faccio preparare un consomé? Consomé? Signora, pillola, signora ha portato il cannerino Ha portato a casa, è venuta Stata con lei, la notte, mi sa letto Mi sa letto Ho l'impressione che qualcuno mi segue e mi controlli Se vedi qualcosa di strano, dimmelo subito, ok? Sì signora Ciao Chung Papà cerco lavoro, non riesco a trovarlo Ci penso io Sono figlia di Chung Lui mi ha mandato me qua a lavorare Ah va bene, tanto il lavoro è ereditario Lavoro è ereditario? Prendete le valigie Sì signora Sì signora Sì signora Sì signora Grazie Chung Prego Sì signora Sì signora Grazie per la visione!